Se pensiamo che abbiamo circa nel nostro comune 300 nuclei familiari che sono stati colpiti sostanzialmente dalle ordinanze di sgombero, di cui parliamo di ATER ovviamente, di cui 180 hanno avuto lo sgombero per immobili di classificati B e il resto circa un centinaio, tra 90 e 100, che invece hanno l'immobile classificato E, che è ovviamente una categoria di inagibilità più grave e più pesante, quindi il grosso, i due terzi hanno una classificazione B e quindi potrebbero rientrare in tempi brevi qualora i lavori iniziassero subito, quindi soprattutto, ripeto, per quegli immobili di categoria B si deve stabilire fin da subito, ora, perché è già troppo tardi, già troppo tardi, perché si doveva e si poteva fare prima, si devono stabilire fin da subito tempi e modalità di intervento che devono essere celeri, anzi immediati. Collegato a questo discorso c'è invece, c'è anche una questione che vorremmo sollevare, che è la questione dei CAS, cioè dei contributi di autonoma sistemazione. registriamo tantissime situazioni di difficoltà e lamentele da parte dei cittadini che hanno diritto, che sfollati, hanno il diritto al contributo di autonoma sistemazione a causa dell'abilità dell'amministrazione nell'erogare, nel trasferire questi contributi dovuti essenzialmente a degli errori che sono stati commessi nelle settimane scorse, nei mesi scorsi, nelle modalità di erogazione. Quello che noi chiediamo all'amministrazione è di dedicare un ufficio specifico ad hoc, una struttura specifica ad hoc, con personale a tempo pieno, che si occupi solo di questo.